Alle 13.53 è arrivato il feletro di Fabrizia Di Lorenzo, la 31enne sulmonese morta nell'attentato di lunedì scorso a Berlino. La bara coperta da un lenzuolo bianco all'arrivo di tutti i parenti, gli amici e di coloro che avevano accolto, tra l'altro, l'arrivo del feletro questa mattina all'aeroporto militare di Ciampino dove erano presenti, fra gli altri, le massime cariche dello Stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è presente anche il Ministro degli Esteri Angelino Alfano, il Ministro della Difesa Roberta Pinotti e poi per la Regione Abruzzo il Governatore Luciano D'Alfonso e il Sindaco di Sulmona Anna Maria Casini. Tante persone qui, proprio nei pressi dell'abitazione di Fabrizia Di Lorenzo, c'è un clima di grande commozione, di grande tristezza per questo Natale che è un Natale di dolore, di disperazione per questa famiglia ben voluta e conosciuta a Sulmona che ha vissuto questa tragedia, questa morte di questa ragazza che era partita alcuni anni fa dall'Abruzzo, da Sulmona uno dei tanti cervelli in fuga del nostro paese per andare a cercare fortuna, in questo caso all'estero. Si era laureata alla Sapienza di Roma con una laurea triennale, aveva poi effettuato altri studi per la specialistica all'Alma Laurea di Bologna e poi la decisione di andare a vivere a Berlino, una città che amava tanto e dove lavorava da alcuni anni presso una ditta di trasporti. Lunedì scorso questa tragedia con la giovane che si trovava nella piazza di Berlino a vedere i mercatini di Natale come tanti berlinesi ma anche tanti turisti quando è piombato questo camion guidato da un tunisino così è stato appurato poi dagli inquirenti guidato da questo giovane che ha falciato tante di quelle persone che si trovavano nei pressi e tra le vittime purtroppo anche la giovane abruzzese 12 i morti, tanti i feriti e dunque una tragedia che tocca ancora una volta l'Abruzzo, tocca Sulmona ma tocca soprattutto il nostro paese. Il 26 si celebreranno nella chiesa di San Panfilo a Sulmona i funerali a cui ovviamente parteciperà tutta la città a Peligna e le massime autorità non solo nazionali ma anche regionali. La ragazza di Lorenzo, Fabrizia, merita questo ed altro e ovviamente da parte delle istituzioni c'è la massima attenzione sicuramente ci sarà una grande partecipazione. Per il momento sono funerali e basta a cui ovviamente si accoderanno delle alte autorità dello Stato.